Episodio 23 di PowerPoint arriviamo a parlare dello schema diapositiva, che cos'è e a che cosa serve. Lo schema diapositiva possiamo vederlo come una sorta di gestore ultimo incredibile per quanto riguarda le diapositive in termini di layout, colori, elementi che vogliamo inserire e tutto ciò veramente che riguarda le diapositive. Perché se ci fate caso possiamo gestire tutto, colori, tipi di carattere, effetti, stili di sfondo, titolo, piedi pagina, segna posto, che abbiamo visto. Quindi lo schema diapositiva altro ne è appunto che uno schema della diapositiva gestito ad un macro livello, perché se ci fate caso possiamo gestire tutto. Abbiamo già visto lo schema diapositiva qualche episodio fa, credo una decina di episodi fa, dove semplicemente avevamo fatto inserisci layout, avevamo inserito un nuovo layout e poi siamo andati a richiamarlo qua da layout e avevamo scelto il layout. Però uno potrebbe dire visualizza schema diapositiva, però perché posso modificare il colore eccetera se lo posso già fare nei temi? E effettivamente guardate qua ci sono i temi, questo perché lo schema diapositiva è un'evoluzione ancora più nel dettaglio del tema. Se volete tra virgolette giocarvela su powerpoint in modo banale, voi applicate un tema, ok, e il resto di cose eventualmente ve le fate a mano, ve le sistemate eccetera. Ma se volete veramente creare qualcosa di duraturo, sia a livello di colori che a livello di layout, il layout l'abbiamo trattato nello schema diapositiva. Quindi se noi andiamo a vedere, schema diapositiva effettivamente fa riferimento al tema. Possiamo perciò dire, senza sbagliare, che lo schema diapositiva è un'estensione della progettazione del tema. Un conto è il tema, un conto è lo schema diapositiva, va bene? Quindi vuol dire che tutte le modifiche che andiamo a fare qui verranno poi applicate direttamente ai diversi layout. E vi dico di più, le modifiche che facciamo su questa diapositiva madre vengono poi applicate a tutte le altre. Vi faccio vedere, allora il tema che stiamo utilizzando è quello bianco. In realtà potremmo utilizzare questo qua azzurro e vedete che sui vari layout viene applicato un certo tipo di tema. In realtà se ci fate caso, qua è diventato azzurro. Ci avete fatto caso? Qui è azzurro e ha cambiato il font. Qua c'è lo sfondo, qua c'è un altro sfondo, qui non c'è lo sfondo, però vedete che c'è l'azzurrino qui e c'è l'azzurrino qui. Andiamo qua. Anche i testi, i sottotitoli sono azzurri. Quindi vedete qua invece abbiamo lo sfondo interamente azzurro e possiamo poi applicare un'immagine. Vedete quindi come lo schema diapositiva parte da un tema. Noi avevamo il tema base di Office chiaramente, il tema iniziale. Ecco perché era tutto bianco e schifoso, ma nessuno mi vieta di partire da un tema già prefatto o dal tema che avevamo costruito dove, uscendo qua, progettazione. Qua abbiamo creato il nostro tema con la nostra palette e poi in schema diapositiva lo andiamo a sistemare. Quando vi dicevo che possiamo partire all'inizio della presentazione e cominciare subito dal tema, dalla progettazione e poi andare a creare i layout, non stiamo sbagliando. Perché? Perché vogliamo andare a sistemare prima tutto quello che ci serve e poi buttiamo dentro i contenuti. Perciò vediamo come funziona. Prendiamo questo tema basico di Office e cominciamo. Allora cambiamo i colori. Allora cambiamo i colori di palette e mettiamo qualcosa sul viola. Perfetto. Tipo di carattere, serve qualcosa di aggressivo. Un bel Arial Black. Effetti, ne lasciamo perdere gli effetti. Stili sfondo, possiamo aggiungere uno sfondo alle diapositiva. Vedete che sto facendo tutte le modifiche su questa prima diapositiva. In modo che vengono a cascata prese da tutte le altre. Vedete? Tutte le diapositive hanno Arial Black adesso. E guardate, nel momento in cui faccio stili sfondo, guardate un po', abbiamo accesso a questi colori. Io vado qui e posso modificare tranquillamente lo sfondo. Una volta che lo faccio viene cambiato a tutte le altre. Se cambio solo a questa qua, stili sfondo, posso farlo. Voglio avere magari un qualcosa di un po' più chiaro. E vedete che va a cambiarlo solo a questa diapositiva. Perché quella in alto è la diapositiva madre. Ok? In basso invece abbiamo gli altri tipi di layout. Vi ho detto che possiamo aggiungere layout. L'abbiamo già visto. Inserisci layout. Bam. Nuovo layout. E lo possiamo modificare. Non entro nel dettaglio. Perché? Perché l'abbiamo già fatto. Quindi contenuto. Bam. Inseriamo qua del contenuto. E possiamo scegliere che contenuto vogliamo. Vedete? È generico. Possiamo scegliere video, immagini, grafici, tabelle. Quello che volete. Vogliamo essere più specifici? Nessun problema. Inserisci il segno a posto. E mi inserisci una bella tabella. E abbiamo creato un nuovo layout che si basa su cosa? Sul tema che avevamo qua. Vedete? Si basa su questo tema che abbiamo creato, che è nuovo. Quindi abbiamo creato un nuovo tema. Come se fossimo in progettazione. In più abbiamo creato dei nuovi layout per questo tema. In più abbiamo modificato ad hoc particolari layout che però saranno visibili. Se ora noi chiudiamo qua e andiamo in queste diapositive. Vedete? La prima diapositiva è già di questo colore. Perché? Visualizza. Schema diapositiva. Questa qui è la diapositiva del titolo. Lo vedete? Titolo dello schema. Quindi titolo della diapositiva. E questo è il sottotitolo. Ok? Quindi la primissima è il titolo. Questa qua è generica. È la madre. Indica che se modifichiamo qua modifichiamo tutto il resto. Ma questo è il primo layout effettivo. E poi qua seguono gli altri. Ok? Direi che possiamo tornare di qua. Vedete? Questa qua è già modificata. Voglio andare qua a layout e vedete che abbiamo il nostro tema di office. In questo caso stiamo prendendo il tema di office. Se lo salvassimo con un nome particolare avremo qua il nostro nome particolare. Quindi vedete come dai layout possiamo accedere a tutti i layout o buona parte dei layout che abbiamo in più. Qua c'è un altro vuol dire che ne abbiamo creato un altro layout personalizzato. Questo è il nostro. Vedete? Con la tabella e la roba generica che abbiamo messo. Lo schema diapositiva ci permette di essere veloci nel cambio di queste cose. Vi dicono ah cambiami per favore il font. Nessun problema. Il font di tutti? Mettete qua. Tipo di carattere? Lo sostituiamo e vedete che viene sostituito per tutti. Ok? Quindi potete usare questa prima diapositiva per modificare a cascata tutto ciò che vi serve. Potete anche aggiungere degli elementi se volete. Siamo qua nello schema diapositiva. Vedete che posso spostarmi comunque su inserisci. Quindi posso inserire qualcosa. Forme. Icone. Proviamo a inserire forme e proviamo a inserire una freccia. Banale no? Da qua la disegniamo. Perfetto. Cambio il colore. Ci dà la palette dei colori che abbiamo selezionato. Vedete? In questo caso la faccio nera. E vedete che essendo nella diapositiva madre me le dà su tutte. Chiaramente posso andare su una singola diapositiva. Andarlo a modificare. Sono comunque in schema diapositiva quindi posso spostarmi in inserisci. Forme. A sto giro voglio fare una banale graffa. Quindi metto qui. Bam. Graffa. E vedete che è disponibile solo in questa. Chiudiamo. E come potete ben vedere tutte le diapositive hanno la freccia. Ne aggiungo un'altra. Nessun problema. Ne aggiungo un'altra. Layout. E vedete che è tutto modificato. Quindi ripeto. Perché è importante. È un'estensione della creazione temi di progettazione. Vedetela così. La progettazione a questo livello qui è livello basico. Quindi si parte da qua e modifichiamo. E basta. Ok? Mentre invece la funzionalità schema diapositiva ci permette di entrare nel dettaglio sui layout. Ma possiamo addirittura. Guardate un po'. Possiamo aggiungere un altro schema diapositiva. Quindi da qui inserisci schema diapositiva. E possiamo ripartire da capo. Quindi prendiamo un altro schema diapositiva. Selezioniamo questo. Cominciamo a cambiare i colori. E restiamo a sto punto sul giallo. Cominciamo a selezionare lo stile di sfondo. Beh partiamo da questo qua. Tipo di carattere. Andiamo con un banale Office 2010. E se io poi mi sposto su qui e voglio aggiungere una diapositiva. Ma posso cambiare il layout. Vedete? Posso usare qualcos'altro. Quindi non sono obbligato a utilizzare un unico tema. Vedete? Non sono obbligato. Posso utilizzare diversi tipi di layout. Che fanno riferimento a strutture ben diverse. Questa qua è la nostra struttura personalizzata che abbiamo creato. Questa qua invece fa riferimento al tema di Office. Può essere un po' confusionario cercare di mettere insieme tutta sta roba. Perciò il mio consiglio è cominciate a partire dalla progettazione dai temi. Una volta che avete il tema o lo fate direttamente da qua. Vi selezionate il tema che volete. E da qua. Se avete bisogno di creare per forza dei layout predefiniti da riutilizzare nel tempo. Potete aggiungerli. Ok? Quindi questa è la potenza dello schema diapositiva. Io so che ci saranno dei dubbi al momento. Però in realtà vi basta prendere quello che abbiamo detto sui layout dieci episodi fa circa più i temi. Metterlo tutto insieme e vi rendete conto che state creando una linea guida molto più nel dettaglio di quanto non l'abbiamo fatto in precedenza. Alla fine comunque quello che conta è il risultato grafico. Ok? Fare bene questa parte vuol dire avere magari meno problemi e perdere meno tempo sulle modifiche o su determinate cose. Perché possiamo creare layout da riutilizzare, temi da riutilizzare eccetera eccetera. Non siete obbligati a utilizzare questa parte, non siete obbligati a conoscerla. Potete fare bellissime presentazioni e fare una carriera solo di presentazioni PowerPoint senza utilizzare lo schema diapositiva. Ve l'ho fatto vedere perché è una buona estensione e riuscire a conoscerlo adesso mette già le basi. Poi migliorando e facendo esperienza su PowerPoint non la vivete a ritornarci ma già con una conoscenza pregressa dite Ah adesso ha molto più senso quello che mi aveva detto. Però sapete quantomeno che cosa fa. Ve l'ho spiegato ed era importante. Perché c'era tanta carne al fuoco. Se torniamo, visualizza, schema diapositiva non è facile da capire perché ci sono tante cose con tante grafiche, non si capisce bene. Ma la volta che hai spiegato, ok, quando sarete pronti per buttarvi bene sullo schema diapositiva, però quantomeno sapete che cosa fa. Benissimo. Direi che per oggi è tutto. Nel prossimo video, dato che abbiamo visto bene o male quasi tutto, credo il 95% di ciò che ci permette di fare PowerPoint, nel prossimo video voglio andare a creare io a mano con voi una diapositiva. Perciò utilizziamo ciò che abbiamo imparato con le forme, disponi, trasforma, eccetera, eccetera, per andare a creare noi una bella diapositiva, senza sfruttare schema diapositiva, temi e quant'altro. Creiamo noi da zero. Va bene? Che è un altro metodo. È un altro metodo ed è assolutamente molto valido. Questo è quanto. Sotto in descrizione trovate sempre vetrine di Amazon con consigli su libri, eccetera, eccetera. Mio sito, altri canali, come supportare il canale e quant'altro. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao!